Vita difficile? Vita molto difficile? Tanca delle solite diete piene di privazioni? Affidati al programma dimagrante Torna in Forma. Torna in Forma è un sistema sano e naturale, anche per la tua famiglia. Semplice e piacevole. Sarai seguita in ogni passo con un programma personalizzato che tenga conto di ogni tua esigenza. Gli integratori di erbe opportunamente selezionate e miscelate velocizzeranno i risultati, facendoti ritrovare la linea, il benessere e la felicità. Torna in Forma, tutta un'altra vita. In erboristeria e farmacia.